Parlando di autismo e inclusione scolastica bisogna prima di tutto fissare alcuni principi di base. Il bambino con autismo è sicuramente il più complesso da integrare nel contesto sociale, nel contesto scolastico perché manifesta delle difficoltà sui pilastri principali, su tre pilastri principali del vivere insieme. Difficoltà di comunicazione, difficoltà di interazione, difficoltà a livello di comportamenti ristretti, stereotipati. Quindi tutto questo lo rende poco attrezzato per vivere in un contesto insieme agli altri. Per cui chiedersi che cosa possiamo fare nel momento in cui dobbiamo pensare a un processo inclusivo per un bambino che ha queste caratteristiche ci porta in primo luogo a vedere, a porre al centro il concetto di inclusione. Non si tratta semplicemente di integrare, cioè di coinvolgere il bambino all'interno di un contesto già predisposto. La classe tipica è sperare che lui come ospite si trovi abbastanza bene, ma bisogna prima di tutto modificare anche il contesto, cioè far sì che il contesto stesso si adatti a lui. Quindi l'inclusione come creazione di un ambiente nel quale un bambino con queste caratteristiche possa trovare la possibilità di esprimere le proprie potenzialità. Ecco, andando sull'aspetto più metodologico e didattico, e quindi chiedendosi che cosa possiamo fare, penso che gli interventi possano essere, diciamo così, raccolti all'interno di quattro principi chiave, di quattro parole di riferimento, che sono la programmazione, l'organizzazione, la didattica speciale e i compagni. Quindi la programmazione intesa nel senso che non è possibile pensare a processi inclusivi per bambini che hanno queste caratteristiche senza un piano di riferimento preciso. Ecco, programmare adeguatamente non significa avere un abito stretto oppure avere un tragitto che non può essere minimamente modificato, ma al contrario è proprio la condizione per essere flessibile, cioè se ho un piano, se ho un programma, poi lo posso adattare in relazione anche ai feedback che mi provengono dal mio bambino. Nel momento in cui parlo di programmazione, chiaramente intendo anche un concetto che è essenziale a livello scolastico, cioè quello che a me piace chiamare il dentro e il fuori, cioè il bambino deve stare nella classe oppure meglio che stia nella stanza per il sostegno in altri ambienti. È chiaro che l'inclusione richiede lo stare assolutamente all'interno del contesto scolastico, però anche questo va visto come un momento conclusivo del percorso, per cui un bambino così poco imitativo come quello con autismo ha anche bisogno di momenti di insegnamento individualizzato che lo preparino per poter vivere adeguatamente in un contesto classe insieme ai suoi compagni. Quindi prima parola chiave, primo concetto chiave è quello della programmazione. Il secondo è quello dell'organizzazione e sta a rappresentare la necessità che il contesto scuola si adatti a quelle che sono le sue esigenze. Cioè è un bambino che non sa leggere la situazione, che non sa interpretare l'ambiente, che non sa apprendere in maniera intuitiva come fanno i suoi compagni, per cui certe informazioni gli devono essere trasmesse. E quindi è quella che viene chiamata la strutturazione dell'ambiente. Cioè sfruttando le potenzialità del bambino, quindi gli aspetti soprattutto legati all'apprendimento visivo, viso-spaziale, ecco è necessario che la scuola si doti, che la classe si doti di tutta una serie di indicazioni che gli forniscano informazioni circa il dove si fanno certe cose, il che cosa dovrò fare. Prima faremo una certa attività, poi l'altra, poi l'altra ancora. Questo può essere fatto ad esempio con schede visive, quindi prendendo l'immagine della prima attività da fare, andando a svilupparle, poi mettendola sulle cose fatte, poi la seconda, la terza, fino alla fine, dove si vede che chiaramente il momento si conclude con il ritorno a casa. Tutto questo tranquillizza un bambino che altrimenti non riesce ad acquisire queste informazioni che per gli altri sono intuitive, che per gli altri sono assolutamente scontate. Un altro aspetto legato alla strutturazione è ad esempio il tempo, cioè quando finiscono i compiti per un bambino con queste caratteristiche è molto difficile capirlo. Noi spesso usiamo l'indicazione verbale, cioè dicendo adesso facciamo questa cosa, poi faremo quest'altra, ma per un bambino come quello con disturbi dello spettro autistico capire quando finisce una cosa e comincia l'altra è molto complesso, per cui tutta una serie di informazioni che possono essere date attraverso input sonori o attraverso l'uso di clesside, attraverso l'uso di orologi adattati, cioè tutta una serie di stimolazioni visive che gli consentano di capire che cosa si farà, dove si farà e quanto questo tipo di attività avrà fine, potrà passare ad un altro, potrà tornare a casa. Ecco, questo è il secondo contesto, cioè la seconda parola chiave, organizziamo l'ambiente, quindi programmiamo, organizziamo l'ambiente, poi il terzo elemento che è quello che sicuramente verrà sviluppato in maniera particolare durante anche il convegno è legato a che tipologia di intervento posso mettere in campo, quindi che cosa è bene fare, che cosa è bene evitare, perché la ricerca pedagogica ma anche, diciamo così, l'applicazione e le esperienze che si sono sviluppate in molti contesti sono in grado di dirci quali sono le strategie che riscuotono un maggior livello di affidabilità e quali meno, per cui da questo punto di vista chiaramente il discorso si allungherebbe a disvisura, sarà trattato durante il congresso, però abbiamo sicuramente molte tipologie di intervento che sono interventi psicoeducativi, quelli che possono essere messi in campo, perché per l'autismo non esistono farmaci, quindi l'intervento non può essere mediato da supporti farmacologici ma deve essere veramente legato all'attività quotidiana che si viene a sviluppare, quindi anche qui tutta una serie di strategie di tipo cognitivo comportamentale, l'utilizzo di video modeling, storie sociali, visualizzazioni, eccetera, sono tutte modalità che hanno dimostrato ampiamente la loro efficacia e il loro significato, quindi programmiamo, organizziamo l'ambiente, utilizziamo strategie che per lui possono essere rispondenti ed efficaci e infine, quarto elemento, quarta parola chiave, cerchiamo di coinvolgere al massimo i suoi compagni che sono effettivamente delle risorse di grande rilievo. Ecco, anche qui però l'aspetto didattico va in primo piano perché il coinvolgimento di questa che è una risorsa assolutamente fondamentale, cioè quella dei compagni, non avviene solamente sulla base dell'appello ai buoni sentimenti, cioè non basta dire bambini comportatevi bene perché il vostro amico ha bisogno, tutto questo magari determina l'azione specifica, cioè lo aiutano a mettersi le scarpe piuttosto che fare un'attività sulla base di una richiesta particolare ma non determina dei comportamenti che nel tempo portano alla lettura del bisogno e all'aiuto un pochino più prolungato, quindi bisogna mettere in campo anche qui delle azioni didattiche particolari che vanno dalla conoscenza del deficit, cioè capire che cosa ha il mio compagno, perché si comporta in quel modo, perché è così strano, cosa posso fare per aiutarlo. Quando avviene questo abbiamo visto in molte occasioni che poi i bambini invitano il loro compagno anche al compleanno perché chiaramente sanno che cosa bisogna fare nel momento in cui comincia a urlare o comincia ad avere comportamenti un pochino inadeguati. Oltre a questo ci sono tutta una serie di altre azioni che vanno dall'insegnamento di abilità assertive, prosociali, all'utilizzo di strategie come il tutoring, cioè un bambino che aiuta l'altro, o il cooperative learning, cioè lavori in piccolo gruppo, cioè tutta una serie di situazioni che certamente aumentano la disponibilità dei bambini nei confronti dei loro compagni, ma che non possono essere intese semplicemente come un aiuto per l'allievo con autismo, per la sua inclusione. Sono così la creazione di un ambiente nel quale poi tutti quanti finiscono per star meglio e tutti quanti finiscono per avere un vantaggio che si ripercuote sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista cognitivo. Quindi, per concludere, pensare all'inclusione di un bambino con queste caratteristiche è estremamente complesso, ma siamo attrezzati. Abbiamo delle linee di lavoro che indubbiamente sono state sperimentate in molte situazioni, in molte occasioni, che dobbiamo cercare di mettere in campo. Schematizzando al massimo, penso che questi quattro concetti con i quali vado a concludere siano fondamentali. Programmiamo, organizziamo l'ambiente, utilizziamo strategie adeguate e coinvolgiamo adeguatamente anche i compagni, perché tutto questo possa rappresentare uno star bene a scuola per tutti e una possibilità di miglioramento significativo per i nostri allievi che vivono la condizione del disturbo dell'aspetto autistico.